Al via ieri festeggiamenti in onore di San Vito a Pagani, la comunità di San Sisto II in Barbazzano in festa per il giovane santo, martire per la fede nel 303. Si tratta di una festa per tutti dai più piccoli e agli adulti, con giochi, canti, teatro e celebrazioni liturgiche, ieri presieduta dal vescovo della diocesi Monsignor Giuseppe Giudice. Forse dire ai giovani che sono così attendi al corpo, sono così attendi allo sport, che dobbiamo riprendere una certa attenzione anche alla spiritualità, perché Mons sana incorpore sano. E penso che il sacrificio per dare bellezza al corpo diventa anche il sacrificio per dare bellezza all'anima, alla vita spirituale. Sicuramente questa festa mi piace perché non è una festa comprata. Noi siamo abituati che prendiamo qualche concertino e facciamo la festa ai Santi. Invece una comunità che si mette in discussione e prepara la festa, che cosa può dare? Può ricordare che la nostra vocazione, noi siamo chiamati alla festa, una festa segnata sempre dalla difficoltà, ma non ci dobbiamo scoraggiare perché siamo chiamati alla grande festa. Grazie. 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 Grazie.